Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, dunque ufficiale, Davide De Marino, nuovo giocatore della Juventus, Under 23 ovviamente ci andrà nell'Under 23, ragazzo di 20 anni, molto interessante, difensore centrale, arriva dalla Pro Vercelli. Io adesso mi sono preso anche due o tre statistiche per dare un'idea del ragazzo, per giustamente per chi non lo sapesse, quindi oggi è vero smanetto, ma sto smanettando perché mi serve per forza smanettare. Allora dunque, quest'anno ha esordito nei professionisti e ha ottenuto già 15 presenze, è un difensore centrale, ovviamente il piede è destro e insomma quest'anno belle presenze le ha fatte e tra l'altro è cresciuto nelle giovanili, ha giocato anche nelle giovanili della Juve e quindi è stato, aveva preso la Juve pensata dal Cenisia e ha fatto un po' la spola tra Pro Vercelli e Juve, molti prestiti tra Juventus 17, Pro Vercelli eccetera, poi adesso era in pianta stabile la Pro Vercelli, adesso la Juve l'ha preso a titolo definitivo. Ragazzo del 2000, quindi 20 anni, giocatore veramente interessante, uno dei migliori prospetti per quanto riguarda i difensori centrali del campionato e viene subito aggregato alla scuola Under 23 e sarà subito a disposizione di Mr. Zauli, un acquisto che probabilmente porterà Parodi a fare il percorso inverso, andare alla Pro Vercelli, però credo che questo sia un colpo molto in prospettiva e penso che la Juve vada bene così, sicuramente la Juve muoverà tante pedine in questo mercato di gennaio come ha sempre fatto perché l'Under 23 serve anche a quello. E niente ragazzi, benvenuto a Davide De Marino alla Juventus e fino alla fine, forza Juventus Under 23!